eccoci qua amici guardate dove vi ho portato vi ho portato a porto ottiolu porto ottiolu famosa per la sua piazzetta come capri anche porto ottiolu ha la sua piazzetta locali localini ristoranti gelaterie tanto artigianato anche qualche bello yacht qualche bello yacht parcheggiato è molto bella è molto caratteristica molto caratteristica questa dicono tutti parlano tutti della piazzetta di capri ma la piazzetta di porto ottiolu non ha niente da invidiare poi da quando c'è stato il presidente direi che la piazzetta di porto ottiolu al suo perché da porto ottiolu vicini a budoni il vostro catamarano